Anticipazione imposta al sole, giovedì 26 marzo 2020. Dopo aver cercato riscontri interessanti sulle rivelazioni fatte dall'assistente di Sebastiano Rosato, Aldo non ha buone notizie per Marina. Per fortuna una grande intuizione della donna potrebbe rivelarsi determinante. Mentre Viola è decisa di stare accanto a Eugenio a Napoli, quest'ultimo preme per dare una svolta significativa alle indagini su Mariano. L'uomo vuole incastrare un membro del country gara. Riuscirà nel suo intento? Il tutto potrebbe rivelarsi però molto insidioso, non solo per se stesso ma anche per la sua famiglia. Filippo e Serena si impegnano a trovare una babysitter per la piccola Irene, in tempi record. Il loro rapporto è ormai connotato da freddezza e distanza. Tuttavia per il benessere della loro figlioletta cercano di andare comunque d'accordo. Grazie per la visione! Grazie per la visione!